Io penso di aver fatto un percorso abbastanza coerente con te, nel senso che comunque mi sono esposta, se l'ho fatto è perché comunque ci credevo, non ho giocato, mai, sono arrivata a fare determinate cose perché le sentivo, però è chiaro che non vogliamo tutti e due le stesse cose. Sì, se poi le cose cominciano a cambiare, quello che ti ho detto l'altra volta, se le cose cominciano a cambiare, vedi che comunque ne abbiamo parlato la prima volta all'inizio, le cose cambiano in te, voglio dire, dimmelo, no? Aggiornami. Sì, però non è che ti posso dire il momento preciso in cui cambiano le cose. Perché? Cioè, viene più facile mandare a quel paese che affrontare un discorso del genere? Sì, a parte che dovessi capirlo tu, insomma, se una cosa sta cambiando, tu so. Io ero sempre fermo sull'ultimo discorso che avevamo fatto. Però poi le cose cambiano, cioè, inizi con un'attrazione fisica e poi... Ci vedevamo allo stesso modo, non c'è stato qualcosa in più da farmi capire. Per me non sei un estraneo, ok? Ma non lo ero neanche all'inizio. Sì, però le cose sono cresciute per me.